Benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi della speratura delle uova. La speratura delle uova è una tecnica che consiste nell'andare a vedere dentro all'uovo se c'è o meno il pulcino, quindi se l'uovo è stato fecondato oppure non è stato fecondato, oppure se è stato fecondato ma c'è stato qualche problema quindi non si è scaldato abbastanza o qualsiasi altro problema che non ha cominciato il principio di trasformazione nella vita. Esistono tanti tipi in commercio di apparecchi per vedere dentro all'uovo ma io uso un comunissimo cellulare con la torcia. Allora prendiamo questo uovo di lori molucano, ecco prendiamolo e mettiamolo vicino alla torcia e possiamo vedere che al suo interno non c'è praticamente niente, è vuoto. Possiamo distinguere il bianco e la parte più scura sarebbe il rosso, vedete non, ecco qua si vede benissimo, è praticamente vuoto. Se fosse pieno ci sarebbero dei piccoli filamenti rossi, dei collegamenti di sangue e anche l'embrione che si muove. Ecco, l'avete visto? Ci vede bene. Prendiamo invece adesso un uovo buono, un uovo fecondato. Ecco, vedete? Si vede poco perché è piccolo, però vedete che al suo interno ci sono dei piccoli vedete che intanto si vede che è pieno, di un altro colore, non è chiaro, vedete? Ecco e ci sono questi filamenti rossi che si muovono tra l'altro, vedete? Non so se ci riesce a vedere dal video però si muove dentro regista, dimmi se si vede dal video riprendi dall'alto che magari è meglio ecco, è meglio fermo così vedete? è di un altro colore ci sono vedete? adesso stai fermo così che lo giro lo giro stai fermo lì oh, vedete? questo è un uovo pieno purtroppo nel video non rende tantissimo però vedete la differenza riprendo l'uovo di prima vedete? questo è completamente vuoto questo è proprio la luce attraversa l'uovo quindi proprio non c'è niente mentre vedete? questo ci si... oh, ecco qua qua si vede bene ecco con questo è tutto spero di essere stato chiaro magari mettiti qua e non so lasciatemi i vostri commenti come al solito ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.